Per quante volte mi è caduta veramente Il mio sconfitto non sono riuscito a tradurre Non la facevi con quei idee? No, anche forse Non mi ricordo Beh, iniziamo subito non bene contro la blight Sicuramente un seguitore letale Minchia, ha già ferito due persone Eh sì, mi trovo in casa, mi sono morta E sono davanti al basement No, no So, mica l'ho detto per niente Meggiorno se non serve, sto andando Perché non lo puoi vedere da basement, ovviamente Avrà sicuramente barbecue, suppongo Barbecue in seguitore letale Ok, così Eh, siamo dall'altra parte opposta È da noi È da noi Non lo commetto, mi interessa No, non ci vediamo qua su Vai, vai, vai Nice 180 No, no, no Levati Oh no Uh, sì Non è male questo blight A giocare No, adesso lo tiro su Era sotto pallet Ma non potevo fare molto Lo mezzo campo Sa che sono nei dintorni Quindi vuole restare vicino Magari adesso si allontano Io provo ad avvicinarmi Niente, ci ho provato a peitarlo A farlo scendere da lì là Mi sa che andrò giù No No, non mi segue No, mi segue No, no, sta venendo per me È al centro della mappa Sto venendo per te invece T'ha visto Vorrei farlo io Perché ho liberazione Ma Eh, non posso Devo curarmi Vabbè, ci provo Dopo che mi sa che ormai Vai giù Dove riuscire a farlo Prima che cada Prima che smette Prima che vada a second stage Forse no Ah, cazzo Non dovevo fermarmi A curarmi Ho fatto anche a me Un cento e tanto Ho fatto Beh, però due gente Sì, quello è buono La mappa comunque non è le migliori per lui Quindi non è male Ehi, lì, grazie al pallo Dove me dovrei serpentelli Spero che ti troverai bene qui con noi Mi state curando Arriva Ok Ritorno No, segue Snake Mi ha perso Cioè mi ha mollato Qua Al centro Potremmo essere Trigennati forse So che ce ne saranno Almeno due vicini Quello lì In mezza strada È tipo il peggiore Da fare contro la piaga Vedo se c'è Quello dentro Sta casa Che sarebbe buono Sì, c'è qua Che inizio questo Allora Dimmi un killer da usare Piaga Se non ci abbiamo conto Questa frase Non l'ho inventato Ho scritto letteralmente Quello che sento Dico io che l'ho impegnato Un urso Un urso Ok, vabbè Ciao Zappo Buonasera cara Come stai? Non l'ho mangiato In effetti penso che mi faccia Un tosto al formaggio Buono Vorrei che io Tosto al formaggio Però Ciao Artemis Buonasera cara Come stai? Mandamene uno Ma tu sei in bici Ma poi come fai a scrivere in bici Cota? No sense Ai 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 E da me Calcio il mio gen Dentro la casa Mi mollo Questa rampa è troppo Surzoid Con questa zona qua Artemis Grazie al settimo mese Grazie di abbonamento Grazie al supporto Cara Gentilissima Niente Si sa che vado di nuovo giù Uh forse no 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 Forse no Dai Andiamo all'alto Chi è del preferito? La piaga Mi sono spaccato la schiena Come hai fatto? Continua Calcio il mio gen di nuovo Mi senti no? Si si Ok Ok ogni tanto Non so se sono mutato o no Perché no no Tipo la cosa In alto a sinistra Di disco E' al centro della massa Si Il mio gen è quasi compleso 75% Dentro la casa E la mia di nuovo Io mando avanti un altro Torna da me Ok Aiuto No Lasciami Adrenalina Per caso Mi hanno messo la mappa Della singolarità Con la piaga Non è malissimo Però Che se non mi ha la domanda Per la snake Adesso gliela facciamo leggere Aspetta quale Nella 10 Quanto valutti Samara Quella di adesso O quella della PTB Ma dopo il buff Della piaga È diventato illegale Si Assolutamente Ora Dipende Perché Non mi fa impazzire Devo essere onesto Perché ha un gameplay Un po' E allora È difficile il gameplay Di Samara Perché è molto Pesante Stare attento A tutto Col fatto che Devi giocarla Con Danna Aspetta che Mi sta arrivando La piaga Ho la piaga Su di me Diventa Diventa un po' Ripetitivo E un gameplay Un po' Noiozello Secondo me Io ho liberazione Oh no Jerry Vattene Questa qua è aperta Da me Jerry Però mi sa C'è la girazione Tra l'altro Oh no Ok Pensavo di non riuscire a uscire Per un attimo Mi ero messo Leggermente troppo vicino Tanto avevo liberazione In realtà Anche se fosse Cg Cos'è che aveva Undurin Shadowborn Brutal strength Agitazione Ok 3000 metri al secondo Questa qua Ok Non aveva Non aveva Gen defense Puri Perché Grazie a tutti.